È possibile viaggiare senza soldi? Sì, assolutamente sì, non è nemmeno così difficile. Per dimostrarlo ho viaggiato per 9 paesi europei in 14 giorni spendendo zero. Vi racconto come ho fatto. Per spostarmi ho fatto sempre l'autostop, ho fatto più di 3000 km tramite 27 autostop. Andavo lungo la strada, facevo così, le macchine si fermavano e mi portavano. Per dormire ho dormito principalmente a casa di persone che mi ospitavano gratuitamente, che trovavo tramite couchsurfing, oppure persone che ho conosciuto che mi hanno offerto un letto. Un paio di volte ho dormito in una chiesa e una volta in un rifugio per senza tetto. Per mangiare invece non ho mai veramente avuto fame, non ho mai nemmeno cercato il cibo, a parte un paio di casi in cui ho chiesto alla Caritas o a qualche ristorante se avevano degli avanzi che buttavano. Per la maggior parte del tempo la gente semplicemente mi offriva del cibo e nemmeno lo accettavo sempre in realtà. Se siete curiosi di sapere di più su come ho fatto c'è un video nel mio canale che racconta per bene tutto il viaggio e cosa è successo.